Il 15 luglio 1575, in pieno anno giubilare, annunciato con suoni di trumbe e tamburri e con sparo di mortaretti, come narrano le cronache, il bolognese Papa Gregorio XIII, nato Boncompagni, con la bolla copiusus misericordia Deus, riconosceva la Congregatio Presbiterorum Secularium Deoratorium Uncupanda, in lingua volgare, la congregazione dell'Oratorio, facendo felice l'ormai sessantenne Filippo Neri, fiorentino di nascita ma romano d'adozione, che aveva dedicato la sua vita all'assistenza e all'apostolato, con uno spirito davvero innovativo. Contestualmente, gli viene affidata la ormai cadente chiesa di Santa Maria in Vallicella, toponimo che potrebbe riferirsi a una depressione del terreno posto tra il Tevere e una pozza di acque sulfuree, detta Terentum, luogo sacro per i romani e naturalmente uno di tanti ingressi negli inferi. La chiesa, riedificata grazie soprattutto alla munificenza di Pierdonato Cesi Cardinale e di Angelo Cesi, vescovo di Dodi come da tradizione familiare, che sganciarono 35.000 scudi, viene completata dieci anni dopo la morte di San Filippo Neri, anno 1605. Qualche anno dopo si sente da parte dei padri filippini l'esigenza di costruire un più ampio oratorio, che tra l'altro avrebbe esaudito un desiderio del santo, che aveva fatto un lascito di 300 scudi per la sua costruzione, nonché un edificio atto a ospitare i conventuali. Architetto dei Filippini è in quel momento, siamo nel 1637, Paolo Maruscelli, forse romano, forse fiorentino, un architetto con solide basi, sua è la facciata di Palazzo Madama, che progetta il nuovo oratorio, ma forse non convince, tant'è che gli oratoriani indicano un concorso e tre padri a tale effetto di mandati, tra i quali spicca Virgilio Spada, esaminati i disegni, scelgono il Borromini. Chi è Virgilio Spada? È un oratoriano di nobile famiglia, originario di Brisichella, terra di Romagna, esperto di architettura, che ha mirato subito i lavori finora scarsi del nostro artista, ma probabilmente si lega a lui stimandone anche il suo carattere asciutto, generoso e onesto, tanto da scrivere il cosiddetto opus architettonicum, dove fa parlare in prima persona Borromini nel descrivere minuziosamente l'opera oratoriana. Sicuramente Don Juan de San Buenaventura, autore della cronaca del convento e della chiesa di San Carlo, ha ragione quando afferma che tutti gli architetti di Roma solicitavano essere eletti per detta fabbrica ed ognuno si aggiutava con gli favori più efficaci che poteva, non lasciando principi né signori cardinali che non fussero interposti per questo effetto, mentre Francesco Borromino mai fu raccomandato da nessuno, salvo dalla sua bravura e dalla fortuna, aggiungiamo, di essere stato apprezzato dall'influente Virgilio Spada, che dal 1644 sarà anche il lemosiniere segreto del Papa. Borromini affianca il Maruscelli, ma siccome l'artista, come dice o come gli fa dire l'autore nella premessa dell'opus citando Michelangelo, chi segue altri non gli va mai innanzi, ben presto comincia a proporre modifiche al progetto originario, tanto che, poco dopo, il Maruscelli abbandona il campo. Tutto risolto? Ma che? Alle difficoltà di carattere funzionale e strutturale si sommano le indicazioni dei padri filippini, che, come si dice da noi, sono di braccetto curto e vogliono a un tempo una facciata che rappresenti degnamente il sito dell'oratorio, ma nel contempo sia semplice, più piccola della chiesa, meno ornata e di materia inferiore, e, sto citando, dove quella fu di Travertino, fu risoluto far questa di terracotta. Ma la difficoltà maggiore è data dal fatto che l'oratorio rettangolare corre sul lato lungo, parallelamente alla piazza, per cui l'entrata e la facciata non potrebbero affacciarsi su questa. Ecco allora l'estro del Borromini scendere in campo, che, con un inganno visivo, simula la facciata come se fosse l'entrata frontale dell'oratorio e non quella laterale. Inoltre, utilizza al meglio il materiale povero che ha sotto mano, creando dei giochi tra i mattoni lavorati in maniera diversa e quel po' di Travertino che poteva usare non trascurando il sottile ed elegante gioco delle finestre e le funzionali nicchie sopra le quattro finestre laterali per ampliare il fascio di luce esterno. La sezione centrale della facciata, motivo caro al Borromini, presenta una parte convessa e una parte concava, che fa posto alla balconata della libreria, dove riprende il gioco delle colonnine alternate, come nel chiostro di San Carlino. L'artista immagina il tutto come un corpo che allarga le braccia per accogliere i fedeli. Petto, avambraccio e braccio. Sul lato opposto, quasi un corpo a sé, la splendida torre dell'orologio, dove Borromini fonde al suo personale stile una qualche reminiscenza, diciamo, gotica, se non nella struttura, almeno nell'idea. La torre, impreziosita da un mosaico del 1657, che riproduce la Madonna della Vallicella, disegnata da Pietro da Cortona, termina come un castelletto in ferro battuto per le campane, materiale che usa quasi sempre nei suoi lavori. Naturalmente, il nostro architetto deve occuparsi di tutto l'edificio, ed è proprio qui che emerge l'intelligenza e la perizia. L'arte combinata con la funzionalità, dalle cantine alle sale, dalle logge ai modesti appartamenti, dai bagni alla biblioteca, dai serbatoi dell'acqua ai cortili e alle fugne. Non sono pochi problemi che bisogna affrontare, come ad esempio le finestre della sagrestia, un corpo costruito prima dell'oratorio, che deve essere inglobato all'interno dell'edificio, in cui, per dare una simmetria con il resto, ricorre a un effetto ottico, facendo dipingere finestre false sulla parete. O quando, a causa di un esproprio che non si riusciva a ottenere, facendo di necessità virtù, inventa per il refettorio una sala ovale, di modo che i padri filippini possano guardarsi in faccia quando dialogano. La sala è dominata da un grosso cammino scolpito, pare, da un unico blocco ritrovato durante gli scavi per le fondamenta, con una cappa a tendone. Oggi la sala ospita l'archivio storico Capitolino, i cui occupanti non gradiscono che il cammino sia fotografato. Pertanto, se lo volete vedere in tutta la sua maestà, potete regarvi in piazza dell'orologio, in genere dalle 16 alle 17, o sul sito dell'archivio, o anche sul sito di Heart and Architecture. Inutile dire che anche in questo caso Borromeni non porta a termine i lavori per dissapori con i padri filippini. Di subentra Camilla Arcucci, romano, nel 1650, insieme a Carlo Reinaldi, che comunque rispetteranno il disegno originario. Dopo la presa di Roma del 1870, in base alla legge 1402 del 19 giugno 1873, che estendeva alla provincia di Roma le già vigenti leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose, l'area sarà affidata al Comune di Roma e oggi ospita un teatro e diversi istituti culturali, tra cui, oltre al citato archivio storico Capitolino, la Biblioteca Vallicelliana, con gli affreschi di Giovanni Francesco Romanelli, detto il Viterbese, e la Casa delle Letterature. La Biblioteca è visitabile, l'oratorio è attualmente in restauro, quindi non ci tocca che aspettare, pazienti. Un saluto, David Lab. Grazie a tutti! Grazie a tutti!